buonasera buonasera benvenuti allora tra pochi minuti inizieremo questo nuovo dialogo questo secondo appuntamento dell'università del dialogo con il professor alessandro barbero molti di voi credo che siano qui per la prima volta ecco questa iniziativa è un'iniziativa mensile ormai va avanti da diversi anni è uno spazio di formazione permanente nel senso che ogni mese arrivano qui all'arsenale della pace personalità diverse su tematiche diverse per un confronto senza filtri a 360 gradi stasera parleremo molti di voi lo sanno del tema della guerra e della pace nel mese del centenario della fine della grande guerra e appunto tra poco inizieremo questo dialogo prima però vorremmo regalarvi un momento musicale perché l'arsenale della pace tante cose accoglienza ma anche una casa di spiritualità di di cultura e anche di musica ogni mese ascolteremo vedete c'è un'arpa vicino a me ascolteremo uno degli allievi del laboratorio del suono che è l'accademia musicale dell'arsenale della pace ci sono tantissimi corsi tantissime possibilità di imparare a suonare uno strumento musicale allora stasera ascoltiamo l'arpa appunto con micol genovese eccola qua l'accogliamo ci farà ascoltare due brani brian boru e passing by grazie a tutti 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 a tutti grazie 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 a tutti e con noi grazie a tutti 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 basta grazie a tutti 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 grazie a tutti